Desidero venire come missionario della misericordia e della pace, stare il più possibile vicino a voi ma in modo speciale a coloro che soffrono. Si è rivolto così Papa Francesco al popolo messicano in un video messaggio a pochi giorni dal suo viaggio apostolico che lo porterà in visita in quella terra che definisce Benedetta, tanto amata da Dio e tanto cara la Vergine Maria. Voglio condividere con voi, ha aggiunto il Papa, una verità fondamentale che Dio ci ama tutti con amore infinito al di là dei nostri meriti. Il Pontefice ha ringraziato i messicani per le preghiere con le quali si stanno preparando al viaggio e che ci fanno vedere gli altri come li vede Dio e ha confessato il grande desiderio di recarsi alla casa della Vergine Maria, il santuario di Guadalupe, così profondamente venerato in America Latina. La guarderò negli occhi e la supplicherò perché non smetta di guardarci con misericordia, ha concluso.